Innanzitutto, che cos'è e che cosa fa una cake designer? Cake design che fa la passeggeria, la torta, un po' con art un po' diversa della torta classica che usa la sua fantasia, che è tipo un design. Quindi la torta è buona, però c'è anche la parte artistica. Guardate qua. Allora, questa non è vera? È poristirollo. Quindi non si mangia, ahimè. Sì, solamente lo zucchero è vero, che è la pasta di zucchero, è fondente. Che si sente perché l'odore dello zucchero. E tu poi fai tutte queste ricame. Queste decorazioni di ricame. Queste decorazioni. Sì, queste in una torta vera è tutto mangiabile. In una torta vera, perché tu puoi fare una torta così vera. Vera, sì. Allora, questa è una. Poi facciamo vedere questa, questa altra. Aspetta che la spostiamo qui. Guardate che bella opera. Ci sono anche le... Guarda qua, guarda, guarda, guarda che bella. La facciamo vedere qua, così. Questa cos'è? Una scatola con la scarpina di cenerentola. E anche questa è una torta, diciamo, di facciata. Ma si può anche fare vera. Tutta colore alimentare. Che bello questo rosso. È veramente molto bello. Sì, grazie. Ma fare un'opera d'arte dolciaria come questa, quanto tempo ti vuole? Noi naturalmente oggi abbiamo fatto alcuni esempi, perché non possiamo mica costringere Lilian a farci tre torte per noi, no? Ce n'ha fatta una vera, poi la vediamo, e l'assaggiamo, e due artistiche. Quanto tempo ci vuole fare una torta così? Quella della scatola, con le scarpe, più o meno 40 minuti a decorarla. Oh, beh, è abbastanza semplice, eh? Sì, perché io penso che già è la mano, quando io sono già abituata a farla, così è una cosa che riesco a farla un po' in tipica. E questa qua invece? Questa qua è un'ora. È un po' più complicata. Poi guardate che c'è la scarpina qui, Lilian Buffet, è proprio bello. Oh, queste sono torte che a richiesta Lilian fa naturalmente per catering, feste e tutto il resto. Io ne approfitto ringraziandola per far vedere anche il sito internet, che è di nuovo online, www.liliambuffet.it Lilian è il suo nome, Buffet, insomma, è il Buffet, è il Buffet. La frase che mi ha colpito è, quando il catering diventa arte. Ah sì? Sì, perché, come lei vede, è una arte, è una cosa che una persona si esprime tutto, che non è una cosa classica, come tutti conoscono. E un catering con una arte, con una torta, con i dolci, tutto decorato in forma, è praticamente una cosa diversa. E ha un bel successo.